Se mi trovo su Akinator il video finisce Ragazzi volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link Andrete su Instant Gaming un sito raga dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati Ma non solo potete neanche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati Quindi mi raccomando ragazzi fateci un salto Ok ragazzi quindi l'avete visto dall'intro e dalla sfida che appunto abbiamo letto Dobbiamo cercarmi su Akinator Se mi trovo il video finisce Non so se qualcuno mi ha mai caricato Io non ho voluto cercarmi proprio per insomma essere sincero quando vedremo la reaction E vediamo allora Selezione il tema della prossima partita Tra personaggio e animali direi personaggio Sì E iniziamo allora Il tuo personaggio è femmina? No decisamente No Il tuo personaggio viene dall'Italia? Eh sì sì il mio personaggio viene decisamente dall'Italia Il tuo personaggio è diventato famoso grazie a Youtube? Sì diciamo che queste sono le prime domande che vengono fatte insomma per andare a chiudere i primi cerchi più grandi in cui andare a cercare A che fare col mondo dei videogiochi? Sì ho a che fare col mondo dei videogiochi Il tuo personaggio è famoso grazie a Minecraft? In realtà no Il mio personaggio non è famoso grazie a Minecraft Non l'ho mai portato Forse in futuro avremo questa occasione Il tuo personaggio è stato rimosso dal gioco? No non sono un personaggio di un gioco È spesso ospite di Mentana No non mi sembra Il tuo personaggio è un fantasma Esisto ancora per mia sfortuna quindi no Ha raggiunto più di un milione di iscreti Sfortunatamente no Direi 700k ragazzi vi ringrazio ancora tutti Ma no sfortunatamente no In futuro si spera quindi no A che fare con Fortnite? Taglia qui già la decima domanda Akinator comincia a colpirci? Sì ho a che fare con Fortnite Va bene Akinator Il tuo personaggio ha i capelli colorati? No non ho capelli colorati Si riferisce ad altri youtuber? Credo ma no personalmente no Il tuo personaggio ha la barba lunga? Direi in realtà di no Non ha barba eccessivamente lunga Il tuo personaggio ha pubblicato un video con la propria ragazza? No non faccio cose di questo tipo Ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta Diciamo che non gioco a calcio Quindi non mi pare di recente Il tuo personaggio fa streaming sul sito Viola? Sì ragazzi faccio streaming sul sito Viola Ne approfitto anche per ricordarvelo Infatti ogni sera tra le 8 e le 9 Ogni sera ragazzi siamo in live per giocare assieme a Fortnite Zone War, game normali Ma anche altri giochi tipo Code, Bloodborne Quindi sì la risposta è sì Mi raccomando andate nella sezione live streaming Per iniziare a seguirmi Ci becchiamo stasera Il tuo personaggio fa video animati? No non faccio animazioni Video di animazione Il tuo personaggio è tra i 20 e i 30 anni? No ragazzi io ho 18 anni Quindi no Non ho Il tuo personaggio ti conosce? Allora ragazzi io qui dovrei dire sì Perché conosco me stesso Però diciamo no Perché è come se una persona qualunque mi stesse cercando Quindi no Il tuo personaggio è un capitano? No So a chi fa riferimento ma no Il tuo personaggio porta gli occhiali? Allora io ora non li sto indossando Però in generale sì porto gli occhiali Quando mi vedete senza è perché porto lenti a contatto Quindi porta gli occhiali Dobbiamo dire effettivamente di sì Il tuo personaggio vive in Sicilia? No Non vivo in Sicilia Il tuo personaggio ha meno di 25 anni È corretto Il tuo personaggio ama Anna Non conosco nessuna Anna Il tuo personaggio ha più di 17 anni? Sì Con più di da poco 18 però Da poco Ormai da mesi Chi è? Non so chi sia RDT Bella bro ma Comunque no Accidentor Cavolo Continuiamo Il tuo personaggio gira video su FIFA No Non ho mai portato FIFA Non è il mio tipo di gioco Il tuo personaggio ha a che fare con TikTok? Sì Ragazzi siamo anche su TikTok Lo ricordo a tutti Potete trovare il mio link Per andare su TikTok In descrizione nella sezione appunto social Mi potete trovare lì Quindi sì Il tuo personaggio è basso Non sono altissimo ragazzi Sono nella media 1,75 Direi di no Dai mettiamo no Il tuo personaggio ha debutato nel 2013? No Io mi pare col canale YouTube Da 5 anni Quindi no Non del 2013 sicuramente Il tuo personaggio pratica il karatechismo? Ma che No Non pratico il karatechismo Il tuo personaggio fa giochi horror? Una volta è capitato Ma in generale no Direi di no Il tuo personaggio è quasi pelato? Probabilmente no Il tuo personaggio è pelato? No 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 Il tuo personaggio è soprannominato King? No Credo faccia riferimento a Ciccio Gamer in questo caso Quindi no Non faccio riferimento Non stiamo parlando di lui Il tuo personaggio abita con qualcuno? Sì Io abito con la mia famiglia Quindi sì Il tuo personaggio fa video con la sua ragazza? Te l'ho già detto prima No Il tuo personaggio si è mai tinto i capelli? No ragazzi Io non ho mai tinto i miei capelli È sempre colore originale Altrimenti si rovinano Disse quello che si è fatto la permanente ieri Il tuo personaggio ha a che fare con le Armin? Non Proprio Il tuo personaggio gioca a Minecraft? Ma te l'ho detto prima che non gioco a Minecraft Senti a chi non mi fa sezzare A chi ne do? Tu me ne sappia In giro a chi ne do? Guarda Guarda Questa faccia da se c'è infame Il tuo personaggio fa parte di Freddy Fatsbeer's Pizzeria Simulator No frate Ma non mi pare Il tuo personaggio ha a che fare con il colore rosso e nero Nero sì Perché mi vesto sempre di nero Ma rosso non mi pare Il tuo personaggio compare ricche e morti Ma Ma co Il tuo personaggio ha a che fare con le bombe? Ma per cosa mi ha preso? No certo che non ha a che fare con le bombe di crema Il tuo personaggio va a scuola? Sì Vado ancora a scuola Quinto anno di liceo scientifico Sì Il tuo personaggio fa parte di Fortnite? No Non faccio parte di Fortnite Il tuo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? Sì Te l'ho detto alla terza domanda A Kinator Il tuo personaggio fa parte di Linkin Park Perché dovrei far parte di Linkin Park? Siamo alla 49esima domanda A Kinator No Il tuo personaggio è maggiorenne? Sì Sono maggiorenne Te l'ho detto otto volte Narcos Ma chi è? No Non sono Narcos 178 Il tuo personaggio è diventato famoso grazie agli sport acquatici? No No Non sono Federica Pellegrini Il tuo personaggio ha vissuto in Abruzzo? No No Di Roma No Non sono di Roma Il tuo personaggio è originario della campagna? Sì Sì Sono della campagna? Sì Il tuo personaggio è un fratello famoso? Attenzione Attenzione Alla 56esima domanda Arop 10 minuti A Kinator sembra aver vagamente compreso di chi stiamo parlando Sì Il tuo personaggio è un ladro? Ma perché? Ma questo è razzismo Ma ha detto che sono della campagna e mi ha chiesto se sono ladro? No Non sono ladro A Pamer È stato per un periodo a Napoli Sì Sì Diciamo così Il tuo personaggio costruisce su Fortnite Ma chi è che non costruisce su Fortnite? Posso capirlo Oh mio Dio mi ha trovato incredibile Non so chi mi abbia aggiunto Comunque grazie mille Ma chi è che non costruisce su Fortnite? Ma chi è che non costruisce su Fortnite? Grazie per la visione!